Mobilia Megastore. La vostra felicità ci sta a cuore. Ciao a tutti, siamo in Toscana. Sì, grazie a Mobilia Megastore ti ha regalato una vacanza di tre giorni. Mobilia Megastore ti regala fino a tre giorni di vacanza e scegli tu dove andare. Devi solo acquistare una delle tante soluzioni in promozione. Parete con pensi di amuro a 1090 euro. Camera da letto completa a 750 euro. Arredo bagno con specchiera, lavabo e robinetti a 990 euro. E scoprite il nuovo reparto. Dedicato a letti e trasformabili. Divano letto a tre costi a 730 euro. Con streghetta, siamo a Venezia! E per i pagamenti c'è sempre tempo. Fino a 48 mesi a tasto zero o 60 mesi con prima ralla a gennaio. O scegliere una vacanza di tre giorni con un fantastico pacchetto. Emozione! O troll e roncato, hotel e spiaggia. Finalmente, siamo in Sardegna. E io vado a farmi un bel bagno e mi rinfresco. Ma già non sono tale. Sì, mi siamo organizzato. Goditi il fresco da Mobili a Megastore. Anche la domenica a Caserta Sud e a Salerno Est.